Dopo tre settimane nella cella di isolamento, Elena e Giovanni, due fidanzatini accusati dell'omicidio di Aldo Gioia, sono stati trasferiti insieme ad altri detenuti. Entrambi sono ancora molto provati, fanno sapere gli avvocati che in questi giorni sono andati al carcere di Bellizzi per incontrarli. Ieri l'avvocato Fabio Russo ha incontrato Giovanni Leimata, il 23enne, accusato di aver ucciso materialmente, con 14 coltellate, il padre della fidanzata. E lo quace, non riesce a parlare, dice il penalista Russo del foro di Benevento, stiamo ancora recuperando gli atti d'accusa, dopodiché si passerà ad una valutazione per la richiesta della perizia psichiatrica. È tutto in una fase preliminare, tiene a precisare l'avvocato, atti formali al momento non ce ne sono e nessuna strategia difensiva è stata delineata. È il secondo incontro per Russo dopo l'ufficializzazione dell'incarico, innanzitutto per conoscere il giovane, per acquisire in un certo senso la confidenza con lui. Giovanni è stato quasi del tutto silenzioso, all'ipotesi di incontrare altre persone, magari un medico, ma proprio le perizie degli specialisti potrebbero rappresentare l'arma principale nel processo che il giovane dovrà affrontare insieme alla sua fidanzata. Elena, nella descrizione, che man mano si fa sempre più chiara, analizzando le chat, appare colei che ha manipolato il giovane, ha delineato nelle richieste a Giovanni il suo piano con precisione. Il passato dei Giovanni pesa come un macigno il tentato suicidio, il TSO l'accusa di assumere alcol e stupefacenti, ma si tratta di questioni che devono essere ancora supportati da dati concreti, dice ancora l'avvocato. Stiamo chiedendo tutta la documentazione alle autorità.